Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi parleremo degli assi cartesiani e delle rette parallele agli assi. In particolare oggi cosa vogliamo fare? Dovremmo essere in grado, alla fine di questa lezione, di descrivere le caratteristiche comuni dei punti appartenenti all'asse delle ascisse, cioè che cosa hanno in comune tutti i punti che si trovano sull'asse delle X. Alla stessa maniera dovremmo essere in grado di dire che cosa hanno in comune tutti i punti che appartengono all'asse delle Y e in generale scrivere la formula che rappresenti una retta che sia o parallela all'asse delle ascisse o parallela all'asse delle ordinate. Allora, consideriamo intanto tre punti. Il punto A di coordinate meno 1, 2, il punto B di coordinate 0, 2 e il punto C di coordinate 5, 2. Come vedete sono tre punti che non si trovano tutti nello stesso quadrante, quindi io ho disegnato i miei assi, 4 quadranti, ho messo i numeri. Come al solito io vi invito a mettere in pausa questo video. Provate voi a disegnare i vostri punti prima di vedere come li disegno io. Cominciamo col punto A. Il punto A si trova con ascissa meno 1 e ordinata 2, quindi si trova qui. E ora disegniamo questo è A. Il punto B di coordinate 0, 2. B dove si trova? Si trova sull'asse Y. E infine il punto C di coordinate 5, 2. Allora, ci vuole poco per capire che questi punti hanno in comune il fatto di trovarsi allineati, in particolare allineati parallelamente all'asse delle X. Allora, se io disegno la retta che passa per questi tre punti, ecco, mi aiuto con il righello. Vi ricordo, come al solito, no? Si fa un tratteggio oppure si disegnano dei punti e poi si traccia la nostra retta. Allora, io mi domando che cosa hanno in comune i punti che si trovano su questa retta? Avranno in comune che la loro X cambierà, no? La X di questo è meno 1, di questo punto è 0, di questo punto è 5. Qualsiasi punto qui intermedio avrà una X compresa tra 0 e 5, o maggiore di 5, o minore di meno 1, no? Però avranno in comune il fatto che tutti questi punti hanno la stessa ordinata. Cioè, se io scrivo una formula che mi dice tutti i punti hanno la stessa ordinata, identifico in maniera unifica i punti che si trovano su questa retta. E quindi andrò a scrivere che questa retta è caratterizzata dalla formula Y uguale, in questo caso, 2. Questa mi rappresenta quindi la formula di questa retta parallela all'asse delle X. Ma questo discorso lo possiamo continuare andando a vedere un altro esempio. Supponiamo, per esempio, di disegnare una retta che sia sempre parallela all'asse X e che passi per questo punto qui, dal punto di coordinate 0, meno 1, no? Di nuovo sull'asse delle Y. Allora, prendo il mio righello, posiziono, faccio il tratteggio all'inizio per dire che la retta continua all'infinite in questa direzione, traccio la mia linea, stessa cosa, disegno il tratteggio anche dall'altra parte e cosa posso dire? Di nuovo posso dire che i punti che si trovano su questa retta hanno in comune il fatto di avere tutti la stessa Y, tutte la stessa ordinata. E quale valore ha questa ordinata? 1. Anzi, scusate, meno 1. Quindi cosa vado a scrivere? Vado a scrivere che questa retta è la retta dei punti che hanno Y uguale a meno 1. E per concludere questa analisi delle rette parallele all'asse X, cosa possiamo dire riguardo all'asse X stessa, no? All'asse delle scisse. Che caratteristiche hanno in comune i punti che si trovano sull'asse X? Seguendo il nostro ragionamento di prima, è chiaro che sono tutti i punti che hanno un'ordinata pari a 0. Perché la Y di tutti questi punti sull'asse delle X è uguale a 0. Non è uguale a 1, non è uguale a meno 1, è uguale a 0. Quindi, un altro modo per indicare l'asse delle X è dire che è la retta di formula, di equazione, scusate, Y uguale a 0. Quindi a questo punto possiamo generalizzare il risultato che abbiamo ottenuto con quei tre esempi, no? Quindi, cosa possiamo dire riguardo alle rette parallele all'asse delle scisse? I punti appartenenti ad una retta parallela all'asse delle scisse hanno la stessa ordinata, hanno la stessa Y. Quindi l'equazione di una qualsiasi retta parallela all'asse di X sarà nella forma Y uguale a K dove K sta a indicare un numero qualsiasi come diremo una costante. Va bene? Quindi non una variabile ma una costante come erano negli esempi di prima, no? Y uguale a 2 Y uguale a meno 1 e Y uguale a 0. Continuiamo la nostra esplorazione delle rette parallele agli assi cartesiani andando a vedere tre nuovi punti il punto D di coordinate 3, 4 il punto E di coordinate 3, 0 e il punto F di coordinate 3, meno 2 ne andiamo a disegnare quindi D si trova 3, 4 quindi si trova qui ok? Le chiamiamo D il punto E di coordinate 3, 0 notate come sia un punto che si trovi sull'asse delle X e infine il punto F di coordinate 3, meno 2 eccolo qua un punto nel quarto quadrante come nel primo esempio che abbiamo visto oggi anche questi tre punti sono allineati in questo caso sono allineati parallelamente all'asse delle Y quindi vado a disegnare la retta che passa per questi tre punti eccola qui e di nuovo noi facciamo il ragionamento cos'hanno in comune tutti i punti si trovano in questa retta avranno in comune di avere la stessa ascissa la stessa X in particolare avranno la X uguale a 3 cambierà la Y e questo mi farà muovere lungo la retta ma la X rimarrà la stessa quindi usando lo stesso ragionamento del caso precedente diremo che questa retta è caratterizzata da avere X uguale a 3 e già qui intuisco che questo è il tipo di equazione che avrà una retta verticale una retta parallela all'asse delle ordinate continuando il nostro ragionamento vediamo invece cosa succede se ho una retta che passa che so per questo punto qui al punto meno 2 0 la vado a disegnare di nuovo e di nuovo mi chiedo ma cosa avranno in comune i punti se non su questa retta avranno in comune il fatto che la loro Y non cambierà ma la loro X sarà sempre uguale a meno 2 quindi scrivo che questa retta ha un'equazione X uguale a meno 2 e di nuovo vado a vedere il caso particolare dell'asse delle ordinate anche questa è una retta e in questa retta tutti i punti hanno in comune il fatto che la loro X è uguale a 0 ecco qua tre esempi di rette parallele all'asse delle ordinate anzi compreso l'asse delle ordinate stesso cosa possiamo concludere da questi ultimi esempi che in maniera analoga a quello che abbiamo fatto per le rette parallele all'asse dell'ascissa e possiamo dire che i punti appartenenti ad una retta parallela all'asse delle ordinate avranno tutti la stessa scissa la stessa X quindi l'equazione di una retta parallela all'asse Y sarà di nuovo nella forma X uguale a K dove vi ricordo di nuovo K è un modo per dire una costante un numero che non cambia quindi che so X uguale a 3 X uguale a 15 X uguale a meno un mezzo questi sono tutti esempi di rette parallele all'asse delle Y alla prossima lezione continueremo il nostro studio delle rette andando a vedere le rette che passano per l'origine degli assi ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini grazie a tutti